Buongiorno a tutte e tutti, mi scuso in anticipo per quella che insomma sarà purtroppo per me una presenza un po' fugace qui anche perché sono discussioni molto interessanti e incredibilmente attuali sulle quali io credo che la politica in Parlamento al giorno d'oggi sconti dei ritardi e delle proprio carenze di analisi che sono pericolose a loro modo. Già nei due interventi insomma che ho avuto modo di ascoltare adesso trovo alcune cose che richiamano qualche appunto che mi sono preparata per questa giornata. Io sono d'accordo sul fatto che la tecnologia insomma avrà un impatto e ha già un impatto molto importante sulla democrazia, sicuramente la nostra non può essere una risposta di fuga o di paura. Penso a quello che diceva nel 2018 se non sbaglio in modo molto pessimistico Emanuele Severino, diceva che la tecnica ucciderà la democrazia perché è l'unico, cosa diceva, l'ultimo dio capace di spingere l'uomo a trascendere la sua stessa condizione. Io non sono d'accordo con un approccio del tutto pessimistico, certo condivido il fatto che sia importante farci caso a queste grandi transizioni ma non penso che le democrazie occidentali possano permettersi di semplicemente pensare che soccomberanno dietro a questi cambiamenti e quindi di non prendere di petto anche i nuovi strumenti e le nuove potenzialità che la tecnica mette di fronte a noi. Innanzitutto sui procedimenti elettorali, su questo diciamo che vedo sempre molto dibattito, insomma la tecnologia aperta ha delle nuove possibilità, penso al voto elettronico che non è proprio la stessa cosa del voto a distanza perché c'è anche la modalità postale, c'è anche il tanto dibattuto voto dei fuorisede, ma comunque è una possibilità in più che può anche avvicinare a livello proprio puramente logistico diverse persone ai processi democratici e che di conseguenza va guardato con un certo interesse. Io sento sempre la giusta preoccupazione che però diventa anche scetticismo e immobilismo del ma vanno garantite tutte le procedure di trasparenza, di sicurezza, ovviamente questo apre a nuovi rischi. Quindi quello che penso io rispetto a questo è che il nostro compito sia proprio trovare le giuste garanzie per poter utilizzare anche questi nuovi metodi. Del resto penso al fatto che in realtà le modalità di voto e di partecipazione democratica si sono sempre adattate alle circostanze. Quando c'era il covid le votazioni per il Quirinale si sono svolte per chi era positivo al covid nel parcheggio della Camera dei Deputati. Allora tutto ovviamente laddove il contesto lo richieda, io penso che la tecnologia vada avanti anche senza di noi, può essere adattato. Laddove più forze più intelligenti si mettono insieme per costruire delle garanzie di correttezza e di trasparenza, io sono favorevole ad andare avanti su questo fronte. C'è il problema che veniva sottolineato molto puntualmente nell'ultimo intervento che apre invece però l'avvento della tecnologia di internet sull'accesso all'informazione e anzi la proliferazione eccessiva e l'inaffidabilità dell'informazione nel momento in cui viene democratizzata dal web, trasformata dunque dal ricorso ai social e anche dall'intelligenza artificiale. Due esempi che secondo me sono interessanti e attuali e che devono porci anche giustamente in allarme rispetto a questo e farci chiedere come governiamo questo aspetto sono sulle elezioni americane. Da quanto ho letto 30 punti percentuali per l'elezione di Trump sono arrivati da un certo target, un pubblico che era il giovane maschio bianco, molto attivamente influenzato da tutta una rete di podcast, influencer, youtuber che non possiamo chiamarle interviste, ma che hanno dato lungo, grande spazio al sostegno per Trump e che da anni comunque propagandavano un certo approccio a tante questioni, costruivano subcultura e legittimavano delle opinioni nello spazio pubblico e nel dibattito di internet. Questa cosa evidentemente ha inciso molto e non può che porci delle domande molto serie, soprattutto a chi non la pensa o non si identifica in figure come Donald Trump, insomma di questo calibro. Ugualmente OpenAI ha fatto sapere di aver respinto 250.000 richieste di deepfake di Trump e la Harris e una ventina di operazioni di reti ingannevoli, giusto per farci capire che laddove non governato, ovviamente, e questa cosa io non penso che possa stare in capo alle singole piattaforme, c'è un grosso rischio di mistificazione profonda della realtà. Per quanto riguarda la partecipazione dei cittadini, invece io credo che si aprano, come accennavo prima, degli scenari interessanti. I referendum, le proposte di legge di iniziativa popolare, tutte quelle finestre potenziali di partecipazione aperte e incoraggiate potenzialmente da un uso migliore della tecnologia vanno esplorate, certo ovviamente ricalibrando lo strumento democratico su questa novità. Vi faccio l'esempio dei referendum, io non penso che sia compito della politica semplicemente reagire in modo conservativo rispetto a questa novità. C'è uno strumento che ci permette di raccogliere le firme in modo più veloce, più efficace, raccoglierne di più in meno tempo? Perfetto, non credo che la risposta dovrebbe essere, allora aumentiamo la soglia di firme che devono servire per proporre potenzialmente un referendum, un referendum abrogativo. Su quello strumento, ad esempio, però potremmo porci il tema di quella che poi è realmente l'astensione fisiologica, perché se io raccolgo 600.000 firme in tre giorni, ma poi comunque ho il quorum al 50% più uno degli aventi diritto, probabilmente vado anche a creare uno scompenso forte tra quello che riesco a mobilitare online e quello che in questi tempi di astensionismo forte si mobilita fuori. Forse ragionerei sul rimodulare il quorum costitutivo e si può pensare, ovviamente oggetto di discussione politica che purtroppo in Parlamento oggi non c'è, ma si potrebbe pensare a formule come il 50% più uno degli ultimi votanti alla Camera dei Deputati. Così si eviterebbe anche quella distorsione per cui una parte è incoraggiata a semplicemente non fare campagna elettorale per il referendum e cercare di far passare la cosa sotto silenzio. Queste ipotesi potrebbero riportare alla luce e anche incentivare alcuni strumenti della democrazia partecipativa che io penso sarebbe interessante e farebbe bene esplorare. Certo, dobbiamo avere una consapevolezza, insomma, ci sono delle forze antitetiche alla democrazia rappresentativa, alla democrazia occidentale, che si muovono e che utilizzano la tecnologia anche spudoratamente a prescindere da ciò che le democrazie fanno o non fanno. Questa consapevolezza deve spingerci a un moto di responsabilità e di azione, per cui con pensiero lungo, con capacità di dialogo e anche mettendo a servizio probabilmente le migliori intelligenze che abbiamo su questo, io penso che anche trasversalmente potrebbero e dovrebbero attivarsi delle discussioni tra gli esponenti politici. Purtroppo manca, ma insomma sono sicura che con l'onorevole Pastorella e con altri pochi deputati, senatori sensibili su questo tema, qualcosa si possa fare. Credo che anche occasioni come queste siano preziose per discuterne. Mi dispiace se non potrò trattenermi molto oltre, ma vi ringrazio molto.